L'inchiesta sui fondi risperperati alla regione Lazio, sentito per sette ore dalla procura di Roma l'ex capogruppo del PDL Fiorito, che si difende dalle accuse e punta il dito su altri colleghi. Sempre più a rischio intanto la giunta del governatore Polverini, che ha un passo dalle dimissioni, per ora fermate dalla mediazione di Silvio Berlusconi. Acque agitate nel PDL non solo per la vicenda della regione Lazio, gli ex AN tentati dall'ascissione, per ora è tregua nel partito, dopo il vertice di ieri sera a Palazzo Grazioli, fra Berlusconi, Alfano Larussa, Gasparri e Meloni. Sul fronte opposto, nel Partito Democratico, 30 parlamentari guidati da Fioroni si schierano contro la partecipazione di Vendola alle primarie, ma Bersani e Renzi bocciano la loro richiesta. Sindacati sul piede di guerra per la vicenda Fiat, aspettando l'incontro di sabato fra Monti e l'amministratore delegato del gruppo di Torino Marchionne, Duro Angeletti della Will, d'ora in poi dice vogliamo solo impegni vincolanti sulle fabbriche Fiat, una posizione condivisa anche dalla CGL. In Champions League la Juventus pareggia a Londra contro il Chelsea, il campione in carica è finita 2-2 dopo la rimonta dei bianconeri, che hanno sfiorato sul finale anche il gol della vittoria. Stasera in campo l'Europa League con quattro squadre italiane Inter-Napoli, Udinese e Lazio. Le 7 e 28 minuti, buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. In primo piano la crisi che si è aperta alla regione Lazio. Prosegue infatti il braccio di ferro tra la Presidente Polverini che ha annunciato le dimissioni da anche un cospicuo piano di tagli sulle spese della regione e il PDL dopo l'inchiesta sul capogruppo Fiorito. È proprio Fiorito che ieri è stato ascoltato per sette ore dai magistrati che indagano, si è discolpato dalle accuse e ha puntato invece il dito contro altri suoi colleghi. Ma facciamo il punto. Si sente nel mirino per le critiche seguite al discorso di lunedì davanti al Consiglio regionale, per la pressione mediatica che dagli sprechi dell'Assemblea si è trasferita sui costi della sua giunta. Non si fida del capogruppo PDL in Consiglio regionale Francesco Battistoni, né del Presidente dell'Assemblea Mario Abruzzese, né pretende le dimissioni per non rassegnare le proprie. Per tutta la giornata di ieri Renata Pulverini è tornata ad agitare lo spettro del passo indietro, che porterebbe dritti allo scioglimento del Consiglio regionale e a nuove elezioni nel Lazio. Ne ha parlato in un incontro con il Ministro Cancellieri, consultandosi sui tempi di un eventuale ritorno alle urne in caso di dimissioni. Un incontro annunciato fin dalla mattina, un segnale lanciato ai vertici del PDL. Alla fine l'intervento diretto di Berlusconi, preoccupatissimo per le conseguenze sul partito della crisi laziale, ha tamponato la situazione. La Pulverini non ha lasciato, l'ex premier le avrebbe promesso la testa di Battistoni, sul quale sarebbe nato un pressing fortissimo dai vertici del PDL. Ma i malumori del governatore del Lazio restano. Preoccupata dalle inchieste che coinvolgono due dei suoi assessori, dalla possibilità che l'indagine su Franco Fiorito, ex capogruppo PDL in Consiglio regionale, possa allargarsi fino a sporcare lei e la sua giunta. Da ieri circolano sul web le foto della festa in costume da antichi romani, costata 20.000 euro, organizzata dal consigliere PDL De Romanis due anni fa al circolo del Foro Italico. Trancelle, centurioni, uomini vestiti da maiali, spunta anche il governatore del Lazio tra gli invitati. La festa me la sono pagata con i miei soldi, dice De Romanis. Mentre Franco Fiorito, ieri interrogato per sette ore nella sede del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza, avrebbe rivolto accuse pesanti ai colleghi di partito. Prima di dribblare le telecamere uscendo da una via secondaria, ha lasciato ai PM due casse di documenti. Dentro decine di lettere e email, richieste di raccomandazioni e di soldi, fatture false per trascinare dentro l'inchiesta altri otto consiglieri. Fiorito ha cercato di presentarsi come una tessere in un sistema di sprechi, puntando il dito contro la stessa Polverini, una strategia che ricorda quella di Luigi Lusi. Adesso, come allora, toccherà ai PM fare le verifiche del caso. E il PDL che aspetta di sapere se Silvio Berlusconi scenderà in campo o meno è alle prese anche con altre vicende interne, come quella che riguarda l'ipotesi scissionista di alcuni ex AN nel partito di Gianfranco Fini. Se ne è parlato ieri sera nel vertice che si è tenuto nella residenza romana di Silvio Berlusconi. Vediamo com'è andata. Un PDL, stressato dalle contrapposizioni tra ex forziste e ex AN, su cui pesa come un macigno anche lo scandalo che investe la Regione Lazio, cerca di salvare l'unità del partito. In un vertice di ieri sera, infatti, le tante voci dei giorni scorsi, che parlavano addirittura di una scissione, sono arrivate sul tavolo di Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli. Il Cavaliere ha presieduto un vertice al quale hanno preso parte la russa, Gasparri, Meloni e il segretario Alfano. Al termine, sorrisi e smentite di qualsiasi ipotesi di divorzio, definite da Cicchetto, irrazionali e autolesioniste. Non abbiamo mai fatto ipotesi di scissione, è un problema di conseguenza. Voi cercate le dichiarazioni mie di Gasparri, non abbiamo mai detto noi rompiamo facciamo. Noi vogliamo vincere, troviamo insieme, tutti insieme, il modo migliore per vincere. Insomma, gli ex-AN ufficialmente confermano l'unità del PDL, ma pongono questioni concrete a Berlusconi. Per esempio, la loro netta contrarietà è ipotesi da larga intese per le elezioni del 2013 o per un Montibissa. Per ora il Cavaliere prende tempo e non risponde, così come continua a rinviare ogni decisione sulla sua candidatura a premier alla guida del centrodestra, un atteggiamento che contribuisce a far salire il nervosismo del partito. Altro punto cruciale su cui Gasparri e la russa non ottengono garanzia dal leader è quello relativo alla nuova legge elettorale. Gli ex-AN spingono per un nuovo sistema con le preferenze, mentre Berlusconi sarebbe disposto a sacrificarle in cambio di un premio di maggioranza non corposo e da assegnare al partito e non alla coalizione. Insomma, per il momento è tregua, tutti uniti, ma non per sempre e non senza condizioni. Anche il Partito Democratico però è le prese con i suoi problemi, soprattutto nel centro-sinistra e per quanto riguarda le primarie. Oltre ai numerosi candidati, quali appunto Bersani e Renzi, c'è anche l'incognita Vendola che ancora non ha sciolto la riserva. Ieri intanto una trentina di deputati guidati dall'ex popolare Fioroni hanno scritto al segretario del Partito Democratico, parlando, facendo proprio riferimento alla candidatura di Nichi Vendola. Benigni era stato facile profeta, scherzando tempo fa a Firenze sul salone dei 500 di Palazzo Vecchio, così chiamato secondo lui per il numero dei partecipanti alle primarie del centro-sinistra. 500 non sono, sono per ora una decina, ma i giochi sembrano tutt'altro che finiti e mancano ancora le regole. Inutile cercarle nello statuto, quello sì c'è ma non conta, vanno stabilite in parallelo con l'affollarsi dei concorrenti e la battaglia infatti è su due piani paralleli, sul chi e sul come. Sui nomi l'ultima richiesta è arrivata via lettera, inviata da 30 deputati centristi, chiede candidati compatibili con un termine che sembra astratto e di difficile decifrazione, un po' come i lavori usuranti, ma che invece il bersaglio lo ha ben presente, è Nichi Vendola, visto di fatto come un condomino che può diventare scomodo padrone del Palazzo. Quanto alle regole invece è il punto dove si consumeranno probabilmente i maggiori sfrigolii, primarie aperte e a un turno solo o primarie sorvegliate a due turni. E come mettere paletti senza che questo non appaia una forzatura antidemocratica? Ecco che è arrivato perfino l'albo dei simpatizzanti, considerato però troppo difficile e complicato che potrebbe cedere il posto all'obbligo di essere in qualche modo schedati con una liberatoria sulla privacy e ciò per allontanare possibili infiltrati. Già, perché la paura è che l'attrattiva per queste primarie si possa estendere bene al di fuori del famoso, ma anche fumoso, popolo della sinistra. E continuiamo a parlare di politica, perché la Giunta per il regolamento della Camera ha dato il via libera alla proposta che tante polemiche nei giorni scorsi aveva sollevato, e cioè quella di fare a verificare ad una società esterna i bilanci dei gruppi parlamentari. Come non detto, con una chiara inversione di rotta, la Giunta per il regolamento di Montecitorio ha votato all'unanimità un documento che sancisce la certificazione esterna per i bilanci dei gruppi parlamentari. I conti saranno sottoposti alla verifica di una società terza selezionata tramite gara. Viene tuttavia preservata l'autonomia della Camera con il controllo finale demandato ai questori e al tesoriere di Montecitorio che materialmente devono poi erogare i fondi. L'idea di affidare la certificazione ad un ente esterno sembrava fino a ieri mattina archiviata sull'onda dei contrasti tra i partiti. Ma, complice il pressing del presidente della Camera Fini e sull'onda delle polemiche anticasta, nel pomeriggio, a sorpresa, arriva il dietrofronto, per di più all'unanimità. La proposta di un controllo esterno sui conti sul tavolo da diversi mesi intendeva dare un segnale di trasparenza dopo gli scandali di Lusi nella Margherita e di Belsito nella Lega. Ma ottenere il nulla osta di tutti era un'impresa titanica, tanto che l'altro ieri sembrava fatto l'accordo su un controllo solo interno. Era quanto prevedeva la bossa messa a punto dai due tecnici di PD e PDL, Bressa e Leone. La motivazione era giuridica e il controllo esterno sarebbe stato incostituzionale. Ovvie le polemiche contro quello che appariva come l'ultimo colpo di mano della casta, proprio mentre si consumava la bufera fiorito alla Regione Lazio. Ieri la votazione su una proposta nuova, controllo esterno, ma con l'ultima parola che resta a Montecitorio. Sibi Partisan è pubblica soddisfazione di tutti. Oggi la Camera ha colmato una lacuna con voto unanime, ha commentato il Presidente della Camera Fini, minimizzando i contrasti e annunciando che chiederà che il testo vada in aula già la prossima settimana. Ma al di là delle pubbliche dichiarazioni, restano voci di malumori a destra e sinistra, dove sarebbero in molti a non avere ingoiato il rospo. La Corte Costituzionale ha giudicato ammissibile il ricorso del Quirinale contro la Procura di Palermo sulle intercettazioni telefoniche indirette tra Napolitano e l'ex Ministro Mancino effettuate nell'ambito dell'inchiesa sulla trattativa Stato-Mafia. L'ordinanza della Corte sarà depositata oggi. Entro sette giorni sarà notificata alla Procura di Palermo la sentenza di merito e sarà emessa entro novembre. Il PM Ingroia ha dichiarato tutto come previsto, nulla di inatteso. Il suo collega Di Matteo gli ha fatto eco. Noi abbiamo rispettato la legge, andiamo avanti. Nessun commento invece dal Colle. Anche i vertici del sismi dovranno essere processati per il rapimento dell'imam di Milano a Buomara. L'ho deciso la Cassazione che ieri, oltre a confermare le condanne per i 23 agenti della CIA, esecutori materiali del sequestro, ha stabilito che dovrà esserci un nuovo processo anche per l'ex direttore del sismi, Nicolò Polleri, il suo vice Marco Mancini. Tutti dichiarati non processabili in nome del segreto di Stato sulla vicenda, sancito dai governi Prodi e Berlusconi. A Buomara, lo ricordiamo, venne rapito a Milano nel 2003, trasferito in Egitto, raccontò di essere stato anche torturato. E adesso la vicenda Fiat, in attesa del vertice di sabato, tra i vertici dell'ingotto e il governo, i sindacati hanno lanciato un appello, hanno fatto appello al Presidente del Consiglio, perché nel faccia a faccia chieda la verità sulle intenzioni del gruppo torinese, ossia se investiranno o meno negli stabilimenti italiani. Vediamo. È sempre il caso Fiat a surriscaldare un clima già arroventato dalle 150 vertenze sul lavoro aperte al Ministero dello Sviluppo Economico. Le dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'ingotto Sergio Marchionne sull'abbandono del progetto di Fabbrica Italia hanno aperto la strada a giorni di polemiche, accuse e veleni. Rimessi in discussione 20 miliardi di investimenti e i referendum di Mirafiori e Pomigliano di fine 2010-inizio 2011, cheppure spaccarono e divisero i sindacati. E ora il segretario della Will Angeletti rievoca proprio lo spettro di quei referendum quando afferma perentorio se salta quell'investimento. Allora salta anche l'accordo e la validità delle consultazioni che lo hanno generato. La data cerchiata in rosso sul calendario è sabato quando Marchionne sarà ricevuto a Palazzo Chigi dal Premier Monti e dovrà dare spiegazioni al Governo sul futuro del gruppo in Italia. La linea dell'esecutivo rimane quella già ribadita in più occasioni. Fiat è una multinazionale e ha il diritto, dovere, di investire come crede. In questo clima però una Fiat che abbandona l'Italia e la conseguente apertura di un'ulteriore vertenza sarebbe davvero una brutta gatta da pelare. E allora forse è meglio riaprire un tavolo con tutti dentro, sindacati compresi. Il leader della CISL, Raffaele Bonanni ha auspicato che si produca a Mirafiori per esportare all'estero e ha invitato i sindacati a ritrovare su Fiat un'azione unitaria. Stesso auspicio della numero uno della CGL Susanna Camusso che sottolinea come Fiat grazie alle bugie abbia spaccato il sindacato ora Marchionne dica la verità allo sfida. Il turno dei sindacati arriverà la prossima settimana lo ha annunciato ieri il Ministro del Lavoro Elsa Fornero allora sapremo se alle parole seguiranno i fatti. E la profonda crisi economica che sta vivendo il nostro paese e anche il resto dell'Europa naturalmente ha ripercussioni anche sulla vita sociale. Così scopriamo che dall'ultimo rapporto del CENSIS un italiano su tre sotto i 30 anni è costretto a vivere con i genitori e proprio la famiglia continua a essere un punto di riferimento importante. Gli italiani nell'era dell'eurocrisi si possono fotografare anche così uno su tre il 31% degli intervistati su un campione di mille persone raccolti e sondati in uno studio di CENSIS e col diretti vive con la mamma. Se si analizza meglio la tabella si divide per fasce d'età il dato raddoppia per i giovani sotto i 29 anni di età un numero che decresce sensibilmente tra i 30 e i 44 anni. Un italiano su quattro compreso in quest'ultima fascia d'età vive ancora con i genitori ma non è il numero di quelli che un tempo venivano definiti con disprezzo bamboccioni ora a casa dei genitori per necessità a far discutere perché in tempi di comunicazione globale spostamenti su treni veloci più della metà degli italiani circa il 54% ai parenti a mezz'ora di distanza a piedi della propria abitazione è il segnale quello della prossimità della famiglia che la mamma e il papà restano sempre il salvagente ideale in tempi di crisi. Tra tante statistiche di lettura più o meno controversa una susciterà di certo invidia sono infatti più di 3 su 10 gli italiani che riescono a raggiungere il luogo di lavoro a piedi in meno di 20 minuti una camminata che sembra un sogno per gli altri 7 italiani su 10 spesso bloccati in mezzo al traffico. Spostiamoci all'estero dopo l'appello lanciato dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama perché si plachino le violenze nei paesi di religione musulmana contro gli occidentali lo sapete dopo il filmato diffuso su internet che offendeva il profeta Maometto c'è molta attenzione molta preoccupazione per domani venerdì giorno di preghiera proprio per l'Islam a far riaccendere questi timori e queste possibili violenze è stato un giornale francese che ha pubblicato delle vignette nuovamente offensive contro il profeta dell'Islam Maometto. Tutto chiuso il prezzo della libertà di espressione secondo il giornale francese Charlie Hebdo scuole ed ambasciati di Parigi in 20 paesi arabi rimarranno sprangate a partire da stamattina al momento solo per due giorni e tuttavia potrebbe essere solo l'inizio vista la rabbia montante del mondo arabo contro le vignette pubblicate dal settimanale satirico ieri andato a ruba nelle edicole è rimasto per buona parte della giornata con il sito bloccato al momento non sono segnalati episodi di violenza contro strutture o cittadini francesi nulla di paragonabile a quanto successo agli Stati Uniti dopo che su internet erano finiti i spezzoni del film su Maometto si teme però soprattutto per la giornata dei domani quando dopo la consueta preghiera del venerdì sono previste manifestazioni in diversi paesi dalle alte autorità religiose sunnite arriva un misto di messaggi che non fanno ben sperare dai fratelli musulmani alla lega araba fino all'imam della moschea al-Azhar Ahmed al-Tayeb gli inviti sono a fermare le violenze ma non le proteste l'atto francese dice l'imam alimenta l'odio nel nome della libertà e c'è chi come Al-Qaeda dopo aver invitato l'omicidio di tutti gli ambasciatori americani del mondo arabo ora minaccia di uccidere gli ostaggi francesi nelle mani dei gruppi affiliati i primi potrebbero essere Philippe Verdun e Serge Lazarevich rapiti lo scorso 24 novembre nel Maghreb e proprio Barack Obama è il presidente degli Stati Uniti impegnato in una dura campagna elettorale per la Casa Bianca e ottenere così un secondo mandato secondo gli ultimi sondaggi sarebbe balzato in testa soprattutto in alcuni stati chiave nei confronti dello sfidante Mitt Romney e questo anche grazie alle ultime gaffe fatte proprio dallo sfidante repubblicano vediamo Barack Obama 332 Mitt Romney 206 a 48 giorni dal voto per la Casa Bianca i sondaggi sembrano non dare scampo allo sfidante secondo l'autorevole Washington Research Group Obama sarebbe in testa in nove dei dieci stati in bilico ma comunque considerati decisivi ma non basta secondo il sondaggio del Wall Street Journal NBC il presidente raccoglie il 50% dei consensi fra coloro che andranno a votare contro il 44% del miliardario repubblicano ma attenzione si tratta di sondaggi effettuati prima della terribile gaffe di Mitt Romney quel disastroso fuori onda in cui a cena da un amico stramiliardario il candidato repubblicano aveva detto l'elettorato di Obama non paga le tasse si sente vittima perché è troppo povero ed io non posso preoccuparmi di questa gente ne ha subito approfittato Obama che ospita all'Ethman Show ha subito affermato io incontro molti repubblicani durante i miei viaggi si tratta di gente che lavora solo ama la famiglia ed è attaccato al paese ma il mio punto di vista è che chi vuole fare presidente deve lavorare per tutti e non solo per alcuni così i repubblicani in queste ultime ore si chiedono se Romney non stia facendo di tutto ma proprio di tutto per perdere solo alcuni giorni fa definì classe media quegli americani che guadagnano fra i 200.000 e 250.000 dollari l'anno alla Casa Bianca hanno probabilmente brindato a questa affermazione ricordando allo staff di Romney che negli Stati Uniti solo il 3% della popolazione guadagna tanto e adesso il calcio un pareggio importante quello ottenuto ieri dalla Juventus a Londra contro il Chelsea la partita di svantaggio è riuscita a rimontare vediamo un ritorno in Europa che migliore non poteva essere un pari che per la Juventus ha un sapore tutto speciale frutto anche stavolta del grande carattere messo in campo dai bianconeri oramai telecomandati da un Antonio Conte la cui assenza dalla panchina sembra divenuta pura formalità la notte allo Stanford Bridge assume così un sapore particolare quella notte che sembrava dover essere tutta per il 21enne brasiliano Oscar centrocampista dai grandi mezzi pagato in estate a peso d'oro 31 milioni di euro da Roman Abramovic due prodezze in altrettanti minuti le sue la prima con l'involontario aiuto di Leonardo Bonucci l'altra con una perla di rara bellezza e che avrebbero potuto mettere in ginocchio qualsiasi avversaria non questa Juventus che nonostante la serata no di Andrea Pirlo e quella così così di Vucinic e da Samoa è stata presa per mano da Marchisio e da uno stoico Vidal il quale danzando su un solo piede ha accorciato le distanze prima del riposo ridando fiato e convinzione ai bianconeri aiutato dagli interventi ravvicinati di Gigi Buffon che a inizio ripresa si è opposto magistralmente alle velenose conclusioni di Ivanovic e Frenkie Lambert e mentre il Chelsea perdeva Oscar per infortunio la Juve guadagnava un Fabio Quagliarella che andava a rilevare l'oramai spento Jovinco il tempo di prendere le coordinate giuste e l'ex udinese ispirato neanche a dirlo da Marchisio spediva il pallone del pareggio tra le gambe di Cello e sarebbe stata per lui indimenticabile la notte londinese se all'86esimo il suo impeccabile sinistro a giro non fosse andato a stamparsi all'incrocio dei pali un pareggio che infonde comunque ulteriore fiducia a questa Juventus per il prosieguo del cammino in questa Champions League Sono le 7.46 minuti il telegiornale finisce qui subito dopo la pubblicità torna Paolo Sottocorona con le previsioni meteo e poi a seguire abbiamo Andrea Pancani con il dibattito di Omnibus a tutti voi una buona giornata e noi ci vediamo domani grazie